Salve ragazzi, benvenuti alle lezioni di matematica del vostro amico Tom. Impareremo insieme le tabelline delle moltiplicazioni. Premetto che verrà sempre esclusa la moltiplicazione per 0, perché ogni numero moltiplicato per 0 dà come risultato sempre 0. E allora, seguite le mie istruzioni. Facciamo un esempio. Dopo aver formulato la moltiplicazione, che comparirà sullo schermo, ci sarà una breve pausa. Durante questa pausa, voi pronuncerete a voce alta il risultato esatto della moltiplicazione. Che comparirà poco dopo, sullo schermo. Muniti di carta e penna, su di un foglio scriverete un segno più se la vostra risposta è stata esatta, un segno meno se la vostra risposta è stata sbagliata. Ripetete la lezione fino a quando non avrete risposto, in modo esatto, a tutte e dieci le moltiplicazioni della tabellina. E sul vostro foglio ci saranno dieci segni più. Spero di essere stato abbastanza chiaro. E adesso, incominciamo con la tabellina dei tre. Siete pronti? Via! Tre per uno Tre Tre per due Sei Tre per tre Nove Tre per quattro Tre per cinque Quindici Tre per sei Dici Diciotto 18 3 Tre per sette Ventuno 3 Per otto Ventiquattro Tre per nove Ventisette 3 per 10 30 Allora ragazzi, com'è andata? Se non avete 10 segni più, ripetiamo insieme la tabellina del 3 Altrimenti ci vediamo alla tabellina del 4 Ciao dal vostro amico Tom! Altrimenti ci vediamo alla tabella